Allora come abbiamo visto, come abbiamo constatato, la pittura di macchia si sviluppa in Toscana e avrà tre centri fondamentali di sviluppo, il luogo intorno al quale proprio si forma da un punto di vista anche ideologico che è il Caffè Michelangelo e quindi la figura di Diego Martelli ma tutti questi intellettuali che ragionano della necessità di svecchiare la pittura, le arti, la letteratura per arrivare a risultati più moderni, sempre con un occhio rivolto verso la Francia. Poi abbiamo visto l'importanza della tenuta di Diego Martelli a Castiglioncello anche per l'offerta che questo luogo così incontaminato e così possente nello scontro di colore dà agli artisti e quindi la possibilità di vedere, di ragionare sullo scontro di luci così possenti senza mediazione di chiaroscuro e nella scorsa lezione ci siamo fermati parlando di Piagentina. Il terzo polo è quello di Piagentina che è l'altro centro provinciale della sperimentazione macchiaiola di questi anni, un luogo molto più modesto, modesta la campagna, una campagna in prossimità di Firenze che offre scorci evidentemente più dimessi, orizzonti sicuramente meno ampi e meno selvaggi, scontri di colore molto più tenue, molto più semplici ma che si presta per l'osservazione della vita di quell'ambiente medio piccolo borghese che poi è l'ambiente di provenienza della gran parte dei macchiaioli, se togliamo Adriano Cecioni che sarà sempre un rivoluzionario vero che poi si sposterà a Napoli, contribuirà alla fondazione della scuola di Resina per poi ritornare in Toscana ma fondamentalmente macchiaioli vivono in questo ambiente che è un ambiente piccolo borghese e in particolare in questo caso uno dei due artisti dei quali vogliamo parlare oggi, Silvestro Lega, sarà più volte ospite a Piagentina nella villa dell'editore Spirito Batelli che era un personaggio illuminato, anche lui amico degli artisti, quindi in questo caso il personaggio importante non è più Diego Martelli ma Spirito Batelli e proprio nella intimità della villa della tenuta di Spirito Batelli lui realizzerà i suoi capolavori migliori, le opere più intense, in una trilogia che poi è stata definita a posteriore la trilogia degli affetti che contiene al suo interno il canto dello stornello che abbiamo già incontrato in una precedente lezione, la visita e il pergolato. Con un atteggiamento, un punto di vista assolutamente più intimista come vediamo, tra l'altro Silvestro Lega si era innamorato di una delle figlie di Batelli che è quella che vediamo rappresentata nell'atto di suonare il piano, una storia che finirà tragicamente, tutte e tre le sorelle Batelli moriranno purtroppo di tisi per cui non ci sarà continuazione a questo amore, ma evidentemente in queste occasioni nelle quali l'artista ha l'opportunità di vedere questo ambiente così dolce, così sereno, così anche noioso potremmo dire, piccolo borghese avrà l'opportunità di cantare un tipo di verità che è una verità diversa, cioè quello che Silvestro Lega ci vuole raccontare è che la verità non è solo quella degli operai, dei contadini, la verità drammatica del lavoro, della fatica, esiste anche una verità che è una verità piacevole, gradevole, la verità della memoria, del ricordo, delle piccole cose appunto e quindi ci imbattiamo nell'intimità delle scene d'interno, in questo caso dove si vede una primavera, ma c'è proprio lo scorrere delle stagioni perché per esempio nella visita noi troviamo invece un'ambientazione invernale, così come poi nel pergolato troveremo un'ambientazione estiva. La visita è forse tra i tre dipinti, quello che possiamo legare di più alla tradizione toscana, qui abbiamo una comune scena quotidiana, una visita fra vicine in questa villa di campagna, abbiamo la fanciulla che sta salutando le due amiche che sono evidentemente due sorelle, lo vediamo perché hanno lo stesso vestito e questa era un'usanza evidentemente dell'epoca, quindi la signorina Batelli che abbraccia una di queste due bacia, una di queste due sorelle, mentre la madre aspetta sul fondo con questo mantello rosa antico. Qui le tonalità dei colori sono tonalità molto più basse, ma la pittura ha gli stessi fondamentali della pittura che possiamo incontrare in sernesi, borrani o fattori per quello che riguarda Castiglioncello. Cambia l'ambientazione, cambia l'intensità della luce, ma si tratta comunque di una pittura evidentemente legata all'idea della macchia, cioè la struttura dei corpi e degli oggetti che viene evidentemente individuata a partire dalla luce, che qui è una luce meno intensa, una luce invernale con questi alberi dai rami secchi che si stagliano su questa atmosfera grigiastra, il tutto composto all'interno di un'architettura, potremmo dire, prospettica esatta, perfetta, che lega evidentemente quest'opera sempre alla tradizione toscana e rinascimentale, esattamente come questo incontro tra la giovane Batelli e le due amiche, ci ricorda in qualche modo una edizione moderna di una visitazione, perché l'ambientazione non può non riecheggiare il modello della visitazione, quindi molto spesso è stato fatto un collegamento fra questo dipinto e la grande pittura toscana a partire da Giotto per arrivare ai grandi del Quattro e del Cinquecento. Il terzo polo di questa trilogia degli affetti è il pergolato. Il pergolato è un dipinto oggi conservato a Brera che inizialmente non era, non si chiamava il pergolato, il titolo originale aveva a che fare con il dopo pranzo, quindi quello che si celebrava non era tanto lo spazio e l'ambientazione, che come vedete è sempre la stessa, è il cortile, diciamo la corte, il lastricato esterno alla Villa Batelli, torno un attimo indietro, vedete esattamente lo stesso lastricato, nel quale però queste donne, queste fanciulle stanno aspettando il caffè, quindi invece di porre l'accento sull'ambientazione si poneva l'accento sul momento, che forse era più corretto perché quello che si sta descrivendo è un momento abbastanza lento, una giornata di pieno sole, d'estate, il tardo pomeriggio, potremmo dire il tardo dopo pranzo, lo vediamo dalle ombre così lunghe appunto, che si allunga un momento tedioso, nel quale questa bambina, vedete sul fondo, sta giocando con la mamma e le tiene una mano tranquillizzante sulla spalla, intanto conversa con l'altra giovane, la padrona di casa probabilmente è quella che tiene il ventaglio, che controlla l'arrivo della servetta con la chicchera del caffè e le tazzine sono già in posizione sulla panca di fondo e quindi si sta raccontando appunto qualcosa che ha un ritmo molto lento, molto pacato e questo crea una differenza ancora una volta fondamentale con la tradizione, con quello che sarà la pittura dell'impressionismo, perché diciamo a prima vista questa luce filtrante, questi effetti diciamo di luce che piovono dal pergolato, ora io in questo caso non vi ho messo il confronto, noi abbiamo visto in una scorsa lezione il ballo al Moulin de la Galette di Renoir dove c'erano degli effetti di luce in qualche modo diciamo simili, questi effetti di luce filtrante, questi riverberi e poi in questo caso ne vediamo la rapidità con cui si rappresentano i fiori, queste macchie colorate nei vasi e poi sullo sfondo dove appunto l'afa tende a annebbiare la vista degli alberi, ora il vostro manuale parla di cipressi, quelli sono evidentemente pioppi ma sarà stato un errore, una svista, i pioppi tipici della campagna toscana, ma in questo caso perché ci si allontana nonostante questi toni così rapidi, così brillanti, una macchia così rapida, ci si allontana dalla pittura, da quella che sarà la pittura francese proprio per questo ritmo lento, pacato e soprattutto per la solidità della struttura che è una struttura prospettica che non è indipendente rispetto alla macchia, la macchia si sovrappone a questa struttura prospettica, è indispensabile, è necessaria alla costruzione dell'opera, sempre secondo l'idea che massa, volume, prospettiva e struttura sono la base di questi effetti cromatici, per carità palpitanti, impressionanti, ottenuti dalla giusta posizione di campi netti di colore, ma comunque che hanno una loro base secondo quello appunto che ripeteva costantemente i fattori, cioè che la macchia e la solidità dei corpi di fronte alla luce. Altro artista interessante da questo punto di vista è Telemoco Signorini, vero cuore palpitante del gruppo, personaggio poliedrico propositivo, si deve a Signorini la scelta di utilizzare il nome di Macchiaioli, il nome di Macchiaioli era stato usato in chiave spregiativa dalla stampa conservatrice e invece Signorini propone appunto di portare orgogliosamente questo nome che poi è qualcosa che accadrà di lì a pochi anni nello stesso identico modo proprio agli impressionisti. È evidente che Telemoco Signorini condivide la scelta di una ricerca di luce e quindi le basi fondamentali dei compagni Macchiaioli, però è anche evidente che nel corso degli anni subisce probabilmente più di altri il fascino della grande pittura francese e l'influenza della grande pittura francese. Nel 1861 andrà a Parigi per visitare il Salon insieme a Banti e a Cabianca, vedrà Courbet e probabilmente proprio l'esempio di Courbet lo porterà a sentire la necessità di esprimere nella sua opera non solo ciò che si vede ma anche qualcosa che abbia un peso da un punto di vista sociale e politico e poi vedremo questi grandi effetti di luce che lo condurranno su una strada che arriverà a lambire l'opera di Degas e dei compagni di Degas anche se la struttura, anche in questo caso la struttura forte, struttura prospettica e la composizione non gli permetteranno mai o perché non vorrà mai evidentemente arrivare alle soluzioni tipiche degli impressionisti. Abbiamo detto nel 61 si reca a Parigi, nel 65 rappresenta la sala delle agitate al manicomio di San Bonifacio. Signorini e i suoi scritti considera conclusa l'esperienza della pittura di macchia già all'inizio degli anni 60, a metà degli anni 60, intendendo dire con questo che la pittura ha necessità anche di un impegno sociale più profondo, più consapevole, per cui in questo caso si rappresenta all'interno di un manicomio e si comincia a rappresentare l'impresentabile, cioè i luoghi tabù della società borghese della quale lui esattamente come l'amico Silvestro Lega fanno parte, ma mentre Silvestro Lega rappresenta quel mondo così dolciastro, diciamo così pacato della borghesia, Telemoco Signorini rappresenta anche in alcuni particolari casi degli elementi di verità che sono elementi di verità brutale, cioè i luoghi proibiti della coscienza borghese in un'altra trilogia, dove troviamo il manicomio, dove troviamo il bagno penale, cioè il carcere, in questo dipinto del 94 e dove troviamo il bordello e nella rappresentazione del bordello noi non possiamo evidentemente non lasciarci colpire dal fascino, diciamo, del confronto con un tema che è stato largamente indagato dalla pittura francese già dal pre-impressionismo e poi fino al post-impressionismo, quindi è evidente che questo collegamento con l'impressionismo si tiene. Noi abbiamo, vi mostro due dei molti esempi possibili, la Nanà di Edouard Manet del 77 e poi la Toilette del 1889 di Henri de Toulouse-Lautrec, che sono due dipinti completamente opposti anche da un punto di vista tecnico, ma che ci mostrano in entrambi i casi la volontà della scelta luministica per la rappresentazione dell'immediatezza del momento, che è qualcosa che nella rappresentazione dello spazio, uno spazio comunque, come posso dire, uno spazio quasi indistinto, che è qualcosa che non succede, non accade, scusate, ho sbagliato a premere, a far scorrere la slide, non accade a Signorini. In Signorini questa luce così affascinante, riverbi di luce che bagnano, che addolciscono le figure, che addirittura circondano le figure come un alone che appiattiscono le figure, però sono comunque strutturate all'interno di una, appunto, struttura volumetrica evidente, chiara, di una massa chiara, di una prospettiva diagonale molto affascinante, ma anche molto definita, molto salda, molto italiana in questo impianto compositivo. Dunque, ancora una volta, per finire, è evidente che non solo Signorini, ora io faccio l'esempio di Signorini perché, come abbiamo detto nella scorsa lezione, abbiamo la necessità di limitarci a pochi esempi, ma è evidente che Signorini e altri artisti di macchia a un certo punto arriveranno a lambire quelle che sono le ricerche più moderne della pittura impressionista. Basta vedere, addirittura anticipandole, basta vedere in questo caso il confronto fra questi due dipinti, che ci mostra la sensibilità, la necessità, l'idea di Signorini di rappresentare lo stesso ambiente, rappresentandolo, però mostrandolo con due luci diverse, in due momenti del giorno diversi, che non può non farci pensare la ricerca che negli anni 90, quindi di lì a poco, farà Monet con i mucchi di fieno, con quelle serie dei mucchi di fieno, con quella serie delle cattedrali, la cattedrale di Rouen. Quindi vedete bene che la sensibilità di partenza è la stessa. E lo stesso potremmo dire anche per la scelta dei soggetti, no? Noi abbiamo dei soggetti che comunque ci fanno pensare ad alcuni soggetti dei grandi pittori impressionisti, mi viene in mente in questo caso vi mostro Alfred Sisley, ma la differenza, che è una differenza che resisterà sempre e comunque, è che in questo caso la luce si sovrappone alla composizione ma non dissolve la struttura. La pittura dei grandi pittori di macchia non farà mai comunque a meno della composizione, della struttura, della prospettiva e del volume. Questa è la differenza fondamentale rispetto all'impressionismo.